Mobilitazione ecosostenibile e riduzione delle emissioni atmosferiche. Con questi due principi di base oggi per l'intera Vallata del Foglia è stato un giorno importante. Saranno circa 9 milioni di euro quelli che la Regione Marche stanzierà per la realizzazione di 41 km di pista ciclopedonale che costeggerà il fiume Foglia. Da Pesaro a Monte Calvo, passando per Vallefoglia e Tavuglia, e a mettere nero su bianco questa mattina si sono riuniti nella sede di Pian del Bruscolo il sindaco di Vallefoglia, nonché presidente dell'Unione Palmirucchielli, la sindaca di Tavuglia Francesca Paolucci, la sindaca di Monte Calvo Donatella Paganelli, Maurizio Bartoli per la provincia e l'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli. Un finanziamento notevole in linea con le risorse già stanziate dalla Regione per la ciclovia adriatica. Ben 60 km che da Gabice Mare porterà a San Benedetto del Tronto, collegando tutta la costa marchigiana per un costo totale di 27 milioni di euro. La ciclovia adriatica non basta, dobbiamo unire tutta la nostra regione anche in un asse longitudinale, quindi dalle nostre colline, dalle nostre montagne, nelle nostre colline, fino ad arrivare al mare. E la ciclovia del Foglia è un asse fondamentale di questi collegamenti. Iniziamo da questi territori per investire circa 5 milioni di euro su 15 km di ciclovia che avranno una multifunzione, quella di garantire innanzitutto la sicurezza dei nostri ragazzi che vorranno raggiungere le infrastrutture sociali, penso alle piscine, penso alle scuole, penso ai campi e campetti da calcio, ma per garantire alle nostre famiglie di poter, ad esempio, da Tavuglia arrivare nel comune di Vallefoglia o di Monte Calvo in sicurezza. Questo è il nostro obiettivo, per questo abbiamo accelerato. Acceleriamo anche sugli appalti che dovranno essere realizzati entro la fine dell'anno per vedere i lavori concretizzarsi nel 2023. A questo investimento ne seguiranno anche altri perché la regione a guida a Quaroli non fa distinzione tra nord e sud della regione, tra grandi e piccoli centri, tra costa e dentro terra. Circa 5 chilometri, se avete bene le carte, a Vallefoglia, circa 7 chilometri a Tavuglia e circa 2 chilometri e mezzo, mi pare, nel comune di Monte Calvo in Foglia. Quindi oltre 14 chilometri che si aggiungono. Il problema poi sarà quello ovviamente della gestione, insomma, del funzionamento. Però, insomma, le opere sono importanti perché noi stiamo pensando alla mobilità in cui la gente si dedica a scuola, al lavoro, magari in bicicletta, magari a piedi. Stiamo ragionando con CGL Cisluvile, con i sindacati delle imprese, per sottoscrivere un protocollo d'intesa per l'uso del mezzo pubblico che riduce l'inguinamento atmosferico, riduce gli incidenti, integra i salari anche dei lavoratori perché, come è successo in tante altre occasioni, si può pagare una parte del lavoratore e una parte dell'impresa. Quindi diciamo che è un bel investimento, questo ringraziamo ovviamente la regione, quella di prima e quella di oggi, nella sua continuità istituzionale perché c'è sempre stata un'attenzione che è sempre più forte per questa vallata.